Il miglior modo per festeggiare questa nuova paternità sia tu che Mario Marotto non avreste potuto trovarlo? Sì, siamo contentissimi. Stanotte è nata mia figlia, un po' di giorni fa è nata quella di Mario e oggi abbiamo fatto gole entrambi, quindi non c'è gioia più bella. Non era una gara semplice, il Lioni nel girone di ritorno ha perso una sola partita, ha costruito praticamente le sue fortune di classifica esclusivamente in casa, arriva il San Marzano e ne fa quattro. Questo deve far capire che il San Marzano sta facendo un campionato importante, sembra tutto facile ma non è così, chi fa questo gioco sa che nessuno ti regala niente, noi stiamo facendo sembrare facile tutto quello che è difficile, quindi veramente bisogna fare un grosso applauso a noi, alla squadra, al mister, allo staff, a tutti. Soprattutto per quanto concerne la testa perché poi gestire un vantaggio così ampio sulle inseguitrici di classifica potrebbe creare il pericolo di deconcentrazione, ancora una volta arriva l'ennesima dimostrazione che questa squadra non conosce assolutamente la parola deconcentrazione. No ma non ce lo possiamo permettere perché il mister non ce lo permette, il mister ci fa stare sempre sugli attenti, ogni partita per noi è una finale che sì è vero abbiamo un ottimo vantaggio, manca poco per la vittoria matematica però ti ripeto il mister ci fa stare sempre sul pezzo, non si molla niente ed è giusto che sia così i risultati si vedono. Un pizzico di riposo per te e Mario Marotta anche per festeggiare un po' in più il fiocco rosa in casa, poi testa al Manfredonia che è una compagine di grandissima levatura del campionato pugliesi, ha anche una certa storia tra i professionisti, la Coppa Italia nazionale resta un obiettivo importante per il San Marzano per provare il gusto del triplete. Sì sì no siamo, ora ci godiamo i bambini andiamo a casa, io ancora la devo vedere quindi la andrò a vedere per la prima volta tra poco, Mario lo stesso perché era in ospedale quindi ci godiamo questa sera domani e da lunedì penseremo a questa bellissima partita che l'abbiamo un po' della cilettina sulla torta perché credo dopo aver vinto la Coppa il campionato ancora non è matematico ma abbiamo un ottimo vantaggio, credo ci sia a provare come detto il triplete sarebbe un sogno, una cosa che mai nessuno ci è riuscito e noi vorremmo essere la prima squadra a riuscirci.